Vediamo un po' se questa sarà una corsa apocalittica! Partiti! E' in vantaggio Carlotta Sprint davanti a Dragorama, Di Montina, Raios De Sol, Carmagnola, Alba Dorata, Lava dell'Ettana ed Apocalittica all'inizio della curva. E' in vantaggio Dragorama davanti a Raios De Sol, Carlotta Sprint, Carmagnola, Di Montina, Lava dell'Ettana, Riva De Pini, Apocalittica, Alba Dorata e Iole My Love poco prima dell'ingresso in vantaggio Dragorama davanti a Raios De Sol e Di Montina. I cavalli entrano in vantaggio con Dragorama e Raios De Sol in vantaggio davanti a Di Montina, Riva De Pini, Carlotta Sprint, Carmagnola, centropista Apocalittica, passa Raios De Sol davanti a Dragorama, Apocalittica, centropista di Montina, Perlini interne, Carmagnola e Riva De Pini in vantaggio Raios De Sol attaccata centropista da Apocalittica, seguono Di Montina e Carmagnola in vantaggio Raios De Sol attaccata all'esterno da Apocalittica, seguono Riva De Pini e Carmagnola. Grazie. Grazie. Grazie.